Vi parlerò però in modo particolare, anche a seguito di quello che è stato detto finora, la scuola è stata richiamata molto dai relatori, soprattutto dall'ultima relazione, come momento fondamentale poi della sperimentazione di questi temi dell'inclusione o dell'esclusione e quindi parlerò della scuola piemontese, delle reti che ha costruito, alcune le cito, scegliendo quelle che servono così anche a indicare e dare la motivazione per cui sono state fatte delle scelte anche di strumenti specifici per la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Allora, ci sono per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, le istituzioni che guarda alla salute, alla promozione della salute in senso generale, quindi in senso pieno dei nostri ragazzi, ci sono delle mission per la scuola che si combatta l'insuccesso scolastico e per la sanità e che si combattano le disuguaglianze di salute e il fatto di poter davvero lavorare all'interno della scuola per combattere queste disuguaglianze è un momento fondamentale di convergenza. La scuola, ripeto, non può fare a meno per poter lavorare, porre le condizioni del successo scolastico, di pensare al benessere dei propri studenti. C'è una storia anche recente che riguarda i protocolli di intesa che sono stati instaurati tra l'ufficio scolastico regionale e l'assessorato alla sanità, anche a fronte di piani sanitari nazionali anche rispetto all'integrazione. L'unico che voglio citare è il programma Guadagnare Salute, perché su questo tema credo che ci si possa addentrare in modo particolare anche in riferimento alle premesse che sono state fatte oggi pomeriggio. Abbiamo infatti una rete di scuole che provano la salute che attraverso delle linee guida che possono essere sempre implementate, adesso si parlava di protocolli, cioè tutto questo può essere poi una struttura, una specie di governance che può essere utile per fare delle azioni in tutto il territorio regionale e c'è una condivisione tra percorsi operativi e le buone pratiche. Quali sono i temi prioritari delle scuole che promuovono la salute? Beh, gli stili sani di vita, ed è importante parlare dell'alimentazione e dell'attività fisica. Quando si parla dei due ragazzi, il terzo e il quinto piano, che stanno chattando tutto il pomeriggio, si parla di ragazzi che non fanno più attività fisica, è un grosso problema, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ce l'ha detto chiaramente, anche ultimamente con grande forza, soprattutto pensando ai bambini piccoli, cioè ci dicono almeno fino a cinque anni evitiamo l'esposizione ai device. Le life skills soprattutto finalizzate all'esercizio della cittadinanza attiva in tema di salute e promozione del benessere relazionale, e poi so che qui ci saranno anche tanti altri contributi su questo specifico argomento. Il benessere relazionale è stato quello che finora abbiamo trattato. La prevenzione delle dipendenze dal gioco d'azzardo e da sostanze, guardate che chiaramente sono questi temi molto connessi al cyberbullismo, il gioco d'azzardo, l'educazione all'affettività ai media e all'ambiente. C'è un'ecologia anche dell'ambiente digitale, quindi lo possiamo considerare in questo modo. Abbiamo quindi imparato scuola e salute a condividere degli strumenti operativi, queste policy integrate che vengono concertate tra operatori sociosanitari e operatori scolastici, perché di fronte a certi temi abbiamo bisogno davvero di fare rete, di mettere insieme le nostre competenze. In particolare, questo l'ho trovato scritto, era già scritto nel 2018 quando sono approdata all'ufficio scolastico regionale, in particolare sulle recenti normative in tema di bullismo e di cyberbullismo. Si sta parlando della legge 71, la legge che io ho promosso nella mia 17esima legislatura come senatrice, ma perché la legge nasce in Piemonte? Perché io sono stata l'insegnante di musica di Carolina Picchi, abbiamo sentito prima il padre, non posso però non parlare di lei, nel senso di ricordare la sua frase che è diventata comunque un'icona, le parole fanno più male delle botte, è quella che viene più ricordata, però diciamo al termine della sua lunga lettera, prima di dare l'addio definitivo a tutti, lei ha scritto, spero che da oggi siate più sensibili sulle parole, e guardate che nel 5 gennaio del 2013 ancora non c'era tutta questa sensibilizzazione, questo, diciamo, refrain del linguaggio d'odio, giustamente è stata ripresa una frase importantissima di Liliana Segre, cioè anche dell'indifferenza, cioè non c'è l'attenzione al disvalore morale delle parole quando sono sulla rete, ma è questo e di questo che stiamo parlando. La scuola ha sicuramente delle grandi responsabilità, anche dal punto di vista del diritto, ho riportato questa slide perché la ritengo veramente molto molto rilevante, e credo, spero, che possa essere utile a tutti, anche ai legislatori. La Cassazione recentemente, trattando un caso al terzo grado di giudizio, di bullismo tradizionale, in questo caso è una vittima che reagisce e colpisce il suo vessatore, e viene naturalmente denunciata la vittima. Quindi, diciamo, la situazione è controversa, diciamo che ogni caso di bullismo fa un po' a sé, va studiato, è difficile tipicizzare, è troppo facile generalizzare, però in questo caso prima viene dato colpa all'uno, poi viene dato colpa all'altro, e poi alla fine si dice concorso di colpa. Quindi si stabilisce una cosa, ma non si dice solo questo, si dice ma non sono solo i due. In questo caso, tra l'altro, professore, prima quando diceva le vittime di bullismo diventano anche vittime di cyberbullismo, ma sappiamo anche bene che nel cyberbullismo le vittime sono spesso cyberbulli. Da quello che ci dicono loro, uno su due. Cioè la metà delle vittime di cyberbullismo è anche cyberbullo. Perché? Perché è molto facile in quell'ambiente usare le parole che non vanno bene, la comunicazione ostile, il dileggio, l'offesa, la prevaricazione. Lo può fare anche chi non ha le physique du rôle del bull tradizionale. Ecco, qui dicono però, la corte di Cassazione dice, attenzione perché non sono solo loro due, ci sono gli astanti, i ragazzi che sapevano. C'è la scuola, questo era un episodio che si è svolto a scuola, potrebbe non essere sempre così, ci sono anche altre agenzie educative, uno sport, ma anche la musica o l'arte, non sempre, è un po' retorica dire se si fa teatro, non ci sono. Cioè in tutti i contesti dobbiamo stare molto attenti perché sono dinamiche razionali tipiche di quell'età. E poi dice però, c'è le due famiglie, perché una si è accorta, cioè non è preoccupata del figlio bullo, ma si preoccupa di fare la richiesta di risarcimento d'anni. Oppure chi aveva il figlio avuto, il figlio vittima per mesi, non si è accorto di niente. Quindi c'è un discorso di contesto. E al di là di quello che c'è già scritto sul codice penale, che investe sia le figure dei docenti che le famiglie, per le loro responsabilità in educando e in vigilando, sia i dirigenti scolastici per le responsabilità invece in organizzando, io credo ci sia un problema morale, c'è un problema di contesto che in questo momento fomenta anche la violenza dei nostri ragazzi. Quindi sentiamoci tutti, no? Risposizione a questa palla ce la passiamo tra tutti. Allora, la legge 71 ha previsto una governance interistituzionale. Ministra, la prego, c'è un tavolo interministeriale che deve poter lavorare e anche il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, se si vuole aggiungere, in quel momento non c'era, il Ministero della Famiglia, il Dipartimento della Famiglia, però mettiamoci davvero insieme con una governance a livello nazionale perché abbiamo bisogno di linee guida, di protocolli che possano essere utili un po' per tutti. Nel frattempo ce l'ha detto anche il Comitato dell'ONU che dobbiamo cercare di attuare la legge 71 all'articolo 3. Si è già parlato del referente in ogni scuola, della Polizia Postale, in particolare, ma comunque delle forze dell'ordine, anche la Polizia Municipale, soprattutto qui a Torino, va assolutamente menzionata con le competenze che ha sviluppato in questi anni, anche con la collaborazione con la Procura Minorile. Dobbiamo imparare a gestire le segnalazioni. Quando arriva nella scuola c'è l'emergenza di un episodio e per questo noi a scuola ci siamo in qualche modo, a livello ministeriale penso, premurati attraverso la piattaforma Elisa di dare una serie di protocolli, di istruzioni, di formazione agli insegnanti che poi viene declinata anche sui territori. Valutare se segnalare il problema ad altre azienzie vuol dire che se non riusciamo a risolverlo a livello comunque della classe, del contesto scolastico, eccetera, ci sono le reti e le reti devono essere attivate perché da soli la scuola non ce la può fare. Non solo la scuola e la famiglia, da soli, rispetto al ragazzo o alla ragazza che può avere determinate caratteristiche di vittima o di bullo, non ce la facciamo, abbiamo bisogno dell'aiuto e oggi se siamo qui a parlare di queste cose è perché abbiamo capito che abbiamo bisogno di una multidisciplinarità, di servizi che parlano tra di loro. Abbiamo in questo senso delle policy nelle scuole, questo è l'OMAR di Novara che è una scuola polo, poi vi spiego di che cosa, del cyberbullismo a Novara, che hanno codice giallo, codice verde, come se fosse un pronto soccorso e cercano di trovare soluzioni attraverso team referente della salute, referente cyberbullismo, animatore digitale, l'inclusione, quindi tutti i referenti, il dirigente scolastico, se c'è lo psicologo che entra nella scuola, ci sono già delle reti diciamo anche interistituzionali, bene, per affrontare al più presto perché sul cyberbullismo il problema è il tempo, il tempo, la tempistica. Vedo che la polizia postale fa segno, eh sì, perché uno dei due strumenti di tutela che inserisce la legge sono proprio la richiesta di rimozione del contenuto lesivo da fare subito, ecco, anche già a 14 anni si può fare, io non mi spiego la legge perché dopo è scontato che dopo tre anni la si conosca, e l'altro è la procedura dell'ammonimento. A livello, proprio perché non è partito ancora il tavolo interministeriale, non c'è ancora il piano d'azione nazionale integrato, integrato vuol dire anche tra servizi diversi, allora le linee guida, le linee di orientamento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, adesso il Ministero dell'Istruzione, dicono ci sono gli uffici scolastici regionali che devono svolgere questo compito, di governance, e quindi la Regione Piemonte aveva già questo osservatorio dalla direttiva Fioroni del 2007, l'osservatorio sta lavorando in questo senso. So che non capite niente, certo, non può essere leggibile, però devo questa diapositiva a Nadia Carpi che fino all'anno scorso è stata, insomma, quella che ha seguito in modo più vicino l'osservatorio, l'osservatorio piemontese, oggi sostituita dall'avvocato Giuliano Passero, e credo che però vi dia l'idea, allora, in Piemonte ci sono 12 scuole polo, queste scuole polo per i cyberbullismi hanno a loro volta delle reti, diciamo, con altre scuole del loro territorio, e in ogni provincia si sono cercati di creare dei gruppi, dei sottogruppi rispetto a un osservatorio dove ci sono, come dicevo, le Forze dell'Ordine, la Procura Minorile, ci sono quattro assessorati della regione Piemonte, ed è coordinato dall'Ufficio Scolastico Regionale, poi c'è il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Corecom, che ha competenze anche specifiche sul bullismo informatico, e quindi è, diciamo, un grande tavolo dove si stabiliscono anche, si monitorano le azioni che si possono fare, i risultati molto meno. Trovate questo materiale, ci sono naturalmente anche importanti collaborazioni col terzo settore, percorsi alternative alle sanzioni disciplinari col forum di volontariato, mediamente bullo, sono tutti, abbiamo parlato di mediazione di conflitti, non posso addentrarmi, ma si è lavorato molto, il progetto Sicurse veniva prima citato, il Cesedi, cioè si è lavorato molto per dare la possibilità, una formazione a tutti e fare emergere un maltrattamento che forse avevamo dimenticato, avevamo parlato del maltrattamento da adulti a minori, e invece in questo caso ci siamo trovati di fronte in modo più impattante, anche se in questo momento forse i dati ci dicono che forse la percentuale è un po' più bassa, diciamo rispetto al bullismo tradizionale, però il tipo di dolore è un dolore molto forte, ed è stato molto chiaro e molto illuminante la relazione di oggi. Una cosa che ha fatto l'osservatorio è per esempio stilare delle linee guida per la gestione in ambito scolastico delle segnalazioni relative alle prevaricazioni tra pari, quando soprattutto si verificano online. Quindi cosa bisogna fare, a chi ci si deve rivolgere, il bambino cosa deve fare, il genitore cosa può fare, il dirigente, l'insegnante, il referente del cyberbullismo, tutto questo per cercare di creare delle procedure. Poi sappiamo che la scuola ha la sua autonomia, e nella sua autonomia deve rivedere il regolamento, e questo è obbligatorio, per legge, e il patto di corresponsabilità. Nel frattempo in Piemonte c'è stata anche una legge regionale, che anche questa viene da Novara, perché il consigliere regionale che l'ha promossa è Domenico Rossi, e questa legge regionale ha previsto, tra le altre cose, due azioni, non cito le altre. Uno, una ricerca, quindi un monitoraggio, perché non abbiamo la possibilità di dare dei dati se non facciamo monitoraggio, insieme alle due università del Piemonte, 48 scuole che verranno coinvolte con un'indagine campione, i risultati li abbiamo tra qualche tempo, spero che possiamo ancora ritrovarci a parlarne. L'altro ha bisogno di una piccola premessa, abbiamo parlato online, guardate che ci sono delle bellissime raccomandazioni 2018 dell'Unione Europea, siamo inseriti qui dentro, cioè il diritto all'accesso per tutti, di connessione, di essere cittadini digitali, ma consapevoli, altrimenti i rischi sono troppi. Non solo i rischi, appunto dicevamo, dell'obesità e del sonno che non si riesce più ad avere, c'è il vamping, che lo dice chiaramente, cioè i ragazzi che si svegliano di notte e lo dicono loro per chattare, c'è una recente indagine di Dite Associazione di Dipendenze Tecnologiche di Ancona e ci dice che loro stanno svegli anche di notte, allora qui bisogna trovare anche delle soluzioni in casa, domestiche, gli smartphone di notte, soprattutto a otto anni, ma anche a 15 anni stanno da qualche altra parte a caricarsi. Cosa abbiamo pensato? Al patentino per lo smartphone. è stato, diciamo, pensato nel VCO, quindi è nato da una rete, ufficio, diciamo, il provveditorato, per usare quel termine, la Polizia di Stato, l'ASL e un'associazione di media education, con una fondazione che ha dato anche inizialmente i soldi per stampare le patenti. Questo è un progetto importante, io lo dico perché secondo me, anche a livello nazionale, noi l'abbiamo modellizzato, abbiamo fatto corsi di formazione integrati, personale sanitario e personale scolastico, con la Polizia e le Forze dell'Ordine, perché bisogna fare questo, bisogna lavorare e usare gli stessi linguaggi. Non basta passarsi la palla, dentro in questa palla ci sono contenuti che abbiamo condiviso e non è sempre così, nel senso che poi bisogna lavorare veramente insieme, sporcarsi un po' le mani. Insieme all'ARPA anche abbiamo costruito e modellizzato questo patentino da smartphone. Nel 2019-2020, questo anno scolastico, verranno consegnate più di 8.000 patenti. diciamo che per noi è una grande soddisfazione e dentro in questo patentino c'è un patto tra genitori e figli, prima si diceva, fondamentale. Nel dare lo smartphone in prima media, quindi si fa in tutte le prime medie, 8.000 ragazzi delle prime medie in ogni provincia, il genitore dice alcune cose, quindi dice ti sto consegnando in prestito questo strumento, il ragazzo ne dice altre, dice sono consapevole che questo strumento me lo stai dando in prestito, se mi chiami ti rispondo, non lo userò per offendere, insomma cercherò di usarlo con moderazione, una serie di cose. Io vi ringrazio, questo è una consegna ufficiale di un patentino nel viceo nel 2018 con il sindaco di Verbagna, il presidente di provincia del Verbano Cosiossola, il consigliere regionale, io non ero già più senatrice ma si può ancora usare il titolo, e poi il direttore dell'AS, guardate, i ragazzi lo conservano come una cosa assolutamente importante e credo che sia uno strumento da poter sviluppare e con cui contaminare il territorio nazionale. Grazie.